Mamma mia quanta tecnologia c'è qua dentro! I'm the gun! We're the gun! I'm the gun! Jack it up! guardate il test drive su strada nel canale youtube del garage della santa e quello di swiss nitro racing e venitela a provare al garage della santa giubiasco ne vale veramente la pena